Buona giornata e bentrovati all'appuntamento con le previsioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale europea dove una corrente di bassa pressione si è avvicinata sulla Francia portando con sé in stabilità e piogge, mentre nelle regioni italiane si intravede qualche forma nuvolosa, ma in un contesto quasi sereno. Previsioni per la giornata del 17 dicembre 2014, caratterizzato da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio nazionale. Eccezione valta per Lazio e Campania dove persisterà nuvolosità irregolare con pioggia, temperature comprese tra 7 e 18 gradi con venti di direzione variabili e mari mosso o poco mosso il restante bacino.